tempo pronto casa la forza dell'asciutto vi presenta a me piacciono le ragazze abbondanti grosse e grasse perché le magre mi hanno sempre messo un po di tristezza addosso con i loro problemi sono di palermo e mi sono innamorata dei suoi bellissimi occhi verdi strano amore alessia diglialo dai mi vuoi sposare ma così non sente alessia mi vuoi sposare alessia alessia problemi problemi di cuore c'è il dottor stranamore domenica alle 20 e 30 canale 5